Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Patrizia Rossetti ci ricasca. Nuova polemica dopo le insinuazioni sull'aspetto della compagna di avventura. La conduttrice Patrizia Rossetti potrebbe veder sfumare a breve la prospettiva della finale. Dopo l'ultima puntata del reality, infatti, il pubblico ha condannato le sue bordate nei confronti di Mikolin Corvaia. La veterana delle televendite ha stretto da tempo un sodalizio amichevole con la cantante Vilma Goik, complice anche l'attitudine a mantenere nella casa un regime di ordine e pulizia. Dopo una rigorosa quarantena, le due amiche hanno fatto ritorno nell'abitazione di Cinecittà, ricongiungendosi finalmente al resto del cast. Vilma e Patrizia, però, hanno preso di mira Mikolin Corvaia, arrivando a criticare il suo aspetto fisico, e imputandole persino una preoccupante propensione all'alcol. Lizia Incorvaia, sorella di Mikol, ha pubblicato un video di denuncia, in cui accusava le due attempate concorrenti di dare un pessimo esempio, ai telespettatori. L'ex Gieppina, inoltre, ha presenziato all'ultima puntata del format e, dopo aver fornito sostegno morale alla sorella, ha affrontato Vilma e Patrizia davanti alle telecamere. Patrizia Rossetti ha pagato lo scotto delle sue ingerenze con una pesante nomination, e potrebbe ben presto lasciare il programma. Vilma Goic, inoltre, nelle ultime ore l'ha coinvolta in un ulteriore pettegolezzo. Questa volta, circa l'aspetto fisico di Nikita Pelison. Patrizia Rossetti ha le ore contate. Eliminazione scontata per la fulva Gieppina? La conduttrice Mediaset negli ultimi giorni ha analizzato il proprio accanimento nei confronti di Mikolin Corvaia, compiendo pubblica ammenda dopo il prime time del programma. Durante uno scambio di battute in compagnia di Vilma Goic, però, quest'ultima l'ha nuovamente trascinata in un terreno minato, commentando l'aspetto fisico della modella Nikita Pelison. La cantante ha infatti insinuato che il posteriore della giovane influencer fosse stato ritoccato da un chirurgo, e Patrizia Rossetti l'ha prontamente bloccata, negando tale possibilità. Secondo molti spettatori, Patrizia teme l'imminente esito del televoto, ed è consapevole che l'episodio con Mikolin Corvaia ha minato la sua immagine agli occhi del pubblico. Alfonso Signorini ha annunciato che la prossima eliminazione si rivelerà definitiva per il concorrente meno gradito al pubblico, e la conduttrice potrebbe presto abbandonare il gioco televisivo. Non resta che scoprire il suo destino durante la diretta televisiva del, GF VIP 7. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.